This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Il gruppo nasce nell'autunno del 2003 dall'incontro tra Patrick e Cristiano Altieri, rispettivamente piano e chitarra, Alessandro Biancani, batteria, Alex Giatti, basso. Da subito l'intento è stato quello di far convivere le diverse influenze provenienti dai background musicali di ciascuno, rock psichedelico di fine anni 60, elettronica sperimentale a 360 gradi, post-rock e molto altro ancora. I risultati attuali vedono, come tratti salienti del sound del gruppo, una ricerca accurata di sonorità distese e dilatate, unite ad un'elettronica minimale di concetto, voci senza tempo che ripercorrono realtà intimistiche. I Camera 66 hanno all'attivo un album autoprodotto registrato al NHQ Studio di Ferrara, nel 2004-2005, dal titolo Nessuna fretta di partire, e la partecipazione a due compilation, High Foundation 2005 BZ Records, distribuito da Audio Globe e Natural Born Rockers 2006 NHQ Record. Tra il 2005 e il 2006 i Camera 66 hanno suonato a fianco di band quali Jennifer Gentle, Three in One Gentleman Suite, My Awesome Mixtape, Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Zen Circus, Le Luci della Centrale Elettrica. All'inizio di gennaio 2008 è uscito il secondo disco, autoprodotto in sospeso, distribuito da On Hip Records Audio Globe. Dopo una pausa durata anni, i Camera 66 si sono ritrovati e hanno prodotto il loro terzo album, Stasi, sotto l'etichetta Frame by Frame Records. Questo nuovo progetto ha trovato forma nell'improvvisazione, mantenendo le caratteristiche di dissonanza e dilatazione dei suoni che ne fanno la firma di questo gruppo. Grazie a tutti. 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 . , , , , , , ,... ,... , ,... ,... ,... ,... ,... ... ,... 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 ... ,... ... ,... ,... ,... ,... ...,... ...,... ,... ... Grazie per la visione!